La nostra strategia si è rivelata vincente. Quando è arrivato il dignigo della sovrintendenza in molti si sarebbero arresi, ma noi no. E' soddisfatto il sindaco di Fano Massimo Seri che questa mattina ha annunciato in conferenza stampa la battaglia vinta dal Comune per la strada delle barche dopo aver fatto il ricorso al Tar. Ora dobbiamo correre perché purtroppo questi ritardi burocratici ci portano ad accelerare i tempi per arrivare entro la fine dell'anno con gli atti amministrativi necessari e soprattutto con l'appalto dei lavori. Ma questo è un grande risultato perché è un'opera che servirà alla nostra comunità, servirà alla canteristica, ma servirà anche per rafforzare e mettere in sicurezza Viale Ruggeri. L'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini ha spiegato invece nel dettaglio le procedure successive. Ci saranno alcuni espropri da fare e nel giro di un Consiglio Comunale o due, quindi direi entro pochissimo, porteremo in Consiglio Comunale un progetto preliminare invariante che costituirà variante al piano urbanistico e poi procederemo all'elaborazione del progetto esecutivo per arrivare alla fine del percorso entro l'anno. Durante l'incontro con i giornalisti il primo cittadino è poi intervenuto sulle polemiche inerenti ai cumuli di sabbia e ghiaia presenti in zona Arzilla. La storia è un po' diversa da quella che è stata raccontata sugli organi di informazione, ma soprattutto perché si è cercato di strumentalizzarli. L'amministrazione, andando incontro ad un'esigenza di portare via della ghiaia che si formava nell'Arenile, già dall'autunno dello scorso anno abbiamo dato disponibilità, ed è una novità assoluta perché in passato queste cose non si sono fatte, di ammassare 800 metri cubi di ghiaia che poi ci saremmo fatti carichi di utilizzare. Ma non solo 800, noi ne abbiamo portate via mille. Poi in realtà senza alcuna autorizzazione si è stata ammucchiata ulteriore ghiaia, ma in realtà era sabbia che quella non può essere utilizzata. Allora è troppo facile poi criticare, addossare colpe su altri quando intanto si è fatto qualcosa in più a favore degli operatori, ma soprattutto senza tener conto delle regole e delle disposizioni e degli accordi che si erano fatti. Ma la cosa che più mi ha infastidito, ha proseguito il sindaco, è stata la polemica avanzata dal consigliere comunale di progetto Fano Santorelli sull'attenso struttura di Sassonia, rutta e non riparata in modo tempestivo. Non è così, ha precisato Seri, visto che il danno è stato recato da un mezzo, ci siamo dovuti rivolgere all'assicurazione per farlo sistemare. Queste polemiche non aiutano la città, ma soprattutto sono ingenerose verso chi cerca di fare qualcosa in più di quello che dovrebbe fare. Grazie.